buongiorno a tutti dovremmo essere live benvenuti grazie per i collegati ecco qui ci siamo ci sentono abbiamo conferma avete già visto probabilmente questo non è il primo webinar che seguite su questa piattaforma quindi vedo che siete già al corrente di qual è lo spazio entro cui ci dovremmo scambiare qualunque cosa di cui avremo bisogno domande o osservazioni perfetto allora mentre ci raggiungono tutti io faccio un attimo un piccolo cappello introduttivo mi presento sono Elena Scari sono educatrice presso FEM e forse qualcuno mi ha seguita nel webinar della scorsa settimana perché questo di oggi fa parte di un ciclo di quattro webinar dedicati al design per la didattica e quest'oggi approfondiamo in particolar modo l'impiego in ambito di didattica aumentata della piattaforma canva la prossima settimana sempre con anna maria che tra poco vi presento e faremo la stessa cosa rispetto allo strumento thing link e poi ci sarà un ultimo incontro invece dedicato più a quelle che sono delle buone pratiche dei consigli da condividere con voi per l'impiego della grafica appunto su queste piattaforme o in altri contesti e vi presento alla maria che oggi ci dà un grande aiuto e supporto perché la mia formazione come avevo detto la volta scorsa la scorsa settimana era su kinkercad la mia formazione è una formazione da designer quindi sono qua per dare fondamentalmente un apporto di tipo tecnico sull'utilizzo dello strumento ma oggi abbiamo la fortuna di avere con noi anna maria che invece condividerà la sua esperienza sul sul piano della contestualizzazione didattica anna maria ti lascio grazie elena allora cominciamo subito io sono felice di un'ultima cosa dimenticando così dopo ti lascio andare la ripeterò anche alla fine però due informazioni di servizio questo incontro di oggi viene registrato e andrà sulla pagina youtube di femm io vi manderò non appena sarà caricato il link una mail con il link appunto a cui potrete collegare per rivederlo e soprattutto vi manderò ma vi copio anche ora subito in questo momento il link alla classroom che è la classroom generica di tutto il ciclo di design per la didattica questo è il link del classroom femm e il codice classroom è questo vi ripeto lo troverete anche nella mail che vi manderò è molto importante seguirci su su classroom per una serie di ragioni intanto lì troverete sicuramente questo materiale che condividiamo oggi altri materiali perché magari non è detto che oggi ci sia il tempo di guardare nello specifico le singole cose quindi sicuramente vi caricherò anche un un brevissimo tutorial tecnico e poi sarà quello il luogo in cui non soltanto noi vi eroghiamo del materiale ma in cui ci possiamo incontrare e perché no anche strutturare delle collaborazioni un po più mirate ecco detto questo vai anna maria ciao sì grazie elena vedo che qualcuno dice la della se si era iscritto l'anno scorso è la stessa classe senza nessun senza nessun problema stiamo usando la stessa classe quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista allora buongiorno a tutti oggi appunto come ha detto elena parliamo di canva e con me facciamo un percorso su come può servire canva che è solo ed esclusivamente uno strumento che dobbiamo imparare sia ad utilizzare al meglio però facendo determinati percorsi che possono servirci nella nostra attività quindi ho condivido subito il mio schermo e adesso vi mostrerò come vedete sono nella funzione canva ecco quella che voi vedete è già una presentazione quindi ho usato canva anche per prepararmi questo canovaccio per me le slide sono un canovaccio per aiutarmi a raccontarvi quello che appunto voglio dirvi in questo percorso e come vedete questa interfaccia è già molto bella di una presentazione che permette anche l'inserimento di un video andiamo a parlare di canva iniziamo con io dico sempre lasciamoci ispirare no all'inizio quindi mi piaceva questa frase di leonardo da vinci che l'apprendimento è l'unica cosa che la mente non esaurisce mai non te non ti stanno segnalando che non vedono la tua condivisione e in effetti lo confermo anch'io non vedete la condivisione no allora aspetta vediamo un attimo adesso adesso sì adesso sì però adesso devo andare sulla condivisione vediamo un attimo si vede oppure no sì 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 allora torno indietro questa era la presentazione con la qui quella che dicevo all'inizio fatta con camba che permette anche l'inserimento di un breve video continuo e quindi questa era la fase di cui parlavo quindi di partire sempre con qualcosa che ci possa aiutare e ci ispiri canva in uno strumento abbiamo detto prima e solo ed esclusivamente uno strumento però dobbiamo imparare anche ad utilizzarlo nel giusto modo quando c'è utilizzarlo nel giusto modo è cioè attingere utilizzare uno strumento perché abbiamo costruito un percorso per costruire un percorso ci serve metodologia compiti autentici pensare alla valutazione i traguardi di competenza e gli strumenti questo però non è l'ordine giusto in modo c'è l'ordine che dobbiamo seguire per andare a costruire il nostro percorso andiamo a vedere invece step by step cosa dobbiamo fare e da dove dobbiamo partire certamente la prima cosa che questo è quello che generalmente faccio quando preparo un percorso e credo che molti docenti lo fanno è quello di partire dai traguardi di competenza quale competenza dovrà raggiungere i miei alunni dovranno raggiungere al termine di questo percorso che non è soltanto un percorso perché è legato ad un progetto ma può essere anche legato ad un'attività didattica ad una unità didattica e che prevede appunto il raggiungimento di alcuni traguardi quelli che abbiamo visto sono i traguardi del 2006 rivisti poi nel 2018 quindi in questa schermata ho inserito il passaggio e anzi diciamo che il rafforzamento che ha fatto nel 2018 è stato fatto per le competenze in chiave europea perché se già vedete comunicazione nella lingua madre ha aperto maggiormente il significato con la competenza alfabetica funzionale una volta che abbiamo trovato quelli che sono i traguardi che dobbiamo raggiungere devono raggiungere a prescindere da quello che poi sarà il tutti i contenuti che andremo a sviscerare con i nostri ragazzi dobbiamo poi vedere quale metodologia andiamo ad utilizzare in questo caso per esempio con canva ho sperimentato più volte l'utilizzo sia del cooperative learning che dello storytelling della didattica laboratoriale sono tre metodi che ci permettono di essere anche molto inclusivi all'interno delle nostre classi cooperative learning è un progetto che andiamo ad organizzare in classe dico progetto però pensatelo nella nella forma più ampia possibile cooperative quindi dicevo con con i nostri studenti un unico percorso ferma formato poi da tante parti che vengono assegnate ai vari componenti dei gruppi per poi arrivare ad un unico prodotto finale storytelling ormai alla base questa metodologia io che sono una docente di lettere amo moltissimo portare avanti il discorso e questo metodo dello storytelling così come anche l'attività laboratoriale che vede insieme ragazzi quando parliamo di attività laboratoriale tante volte si pensa sempre ad un laboratorio fisico ma dobbiamo anche immaginare soprattutto ora che parliamo di una didattica a distanza che il laboratorio è oltre l'aspetto fisico stesso è già il fatto di organizzare un lavoro in gruppi con i nostri ragazzi è già quella un'attività laboratoriale il compito autentico perché andiamo a costruire dei compiti autentici a scuola prima di tutto per trovare io dico un significato all'impegno profuso nello studio cioè i ragazzi hanno appreso delle conoscenze dai libri da video da quello che volete utilizzare nella didattica ora però devono sviluppare delle abilità per raggiungere dei traguardi quindi alla base di tutto un percorso c'è sempre la conoscenza che il nostro punto di partenza perché compiti autentici per imparare a ragionare a risolvere problemi quindi ad avvicinare anche la scuola quello che è il mondo reale circostante ai ragazzi ad essere un po più vicini a loro perché compito autentico per stimolare allo studio in questo modo ne facciamo leva proprio su quelli che possono essere gli studenti come vedete man mano che adesso io inserirò delle slide vedrete queste slide scorrere vedrete delle immagini che sono sempre realizzate con canva quella che vedete adesso per esempio è un immagine creata per preparare una una mappa concettuale perché questa immagine ha un suo retro in a4 che è una mappa concettuale di un percorso che in realtà mio figlio ha preparato qualche anno fa per presentarsi alla maturità ecco che quindi questo per dire tutte le varie utilità che si possono usare che cosa può essere usato canva per dare visibilità all'apprendimento attraverso la realizzazione di un prodotto di un lavoro quello che vedete qui è una classica locandina utilizzata sempre con canva alla fine di un percorso di un percorso ponna e quindi mostrando tutto quello che è stato svolto quando poi a diciamo prepariamo tutto quello che il nostro percorso dobbiamo poi pensare alla valutazione che non è da sottovalutare una valutazione che vanno di che cosa il processo il prodotto e la presentazione il processo perché io vado a valutare come è stata svolta l'attività quali sono stati come hanno interagito tra di loro gli equilibri che si sono realizzati all'interno dei diversi gruppi il prodotto quello che poi è stato l'aspetto finale del di questo percorso e poi la loro capacità di presentare e nel caso di un'attività prodotto alla fine del cooperative learning ogni gruppo è il tassello di un prodotto completo quindi la presentazione di ognuno per poi comprendere quello che è stato tutto il processo diciamo di questo lavoro l'autovalutazione dello studente l'autobiografia cognitiva è molto importante perché io vado a capire se quello che ho calato in quella realtà della classe va bene oppure devo andare a rimediare a risistemare qualcosa quello che è importante che la valutazione quando preparo un percorso poi dopo vi farò vedere con qualche esempio in realtà preparo le rubriche di valutazione delle bozze io dico bozze di rubriche di valutazione perché le condivido subito con i ragazzi perché loro devono sapere quali sono gli indicatori che vengono inseriti all'interno della rubrica che sa e con i quali saranno valutati sia per il prodotto che hanno realizzato e sia per il modo in come lo hanno presentato in quel caso non solo presenteranno il prodotto ma metteranno fuori anche tutte le conoscenze che hanno diciamo accumulato man mano che hanno tutto quello che hanno imparato durante questo percorso o quello che è servito per realizzare il percorso quindi è molto importante costruire rubriche di valutazione condividerli con i ragazzi perché possono anche essere a volte ho trovato ragazze hanno detto no prof questa questo indicatore penso che dovremmo cambiare questo è molto importante dalla valutazione quindi arriviamo agli strumenti io dico competenze in atto o se no in questo caso ci servono le applicazioni come vedete poi il box che abbiamo visto all'inizio adesso seguono un ordine ed è quello proprio di un percorso didattico partiamo dai traguardi di competenze passiamo per la scelta di una metodologia costruiamo il compito costruiamo le rubriche di valutazione e scegliamo lo strumento da utilizzare canva è l'app dai mille modelli infatti per esempio se solo qui vi mostro alcuni di quello che di quelle che ho realizzato con le applicazioni che adesso ve le faccio vedere più nel dettaglio perché dico che cosa possiamo presentare e li ho qui diciamo preparate per farvele vedere che sono per esempio questo è un book lo vedete con un'interfaccia perché è di qualche anno fa e adesso canva ha cambiato non ho modificato il template di questo lavoro perché si sarebbe sarebbe un po cambiato e quindi l'ho lasciato stare anche perché fa parte di un prodotto inserito all'interno di un po quindi ha proprio la forma vedete di un book completo che cosa possiamo costruire con canva anche una mappa ecco questa è la mappa di quello che vi ho mostrato cioè creare un percorso didattico con strumenti digitali e l'ho creata con con canva quindi traguardi di competenze quali competenze si possono mettere in atto per portare avanti un percorso che mi potrà per il quale potrò utilizzare canva quali metodologie costruisco il compito penso alla valutazione e nel frattempo dono sguardo anche allo strumento che andrò ad utilizzare posso utilizzare posso fare un report guardate questo è un report che ho realizzato l'anno scorso il mio primo anno alle superiori sono stata referente sempre per la formazione dei docenti e ho consegnato questo report realizzato con canva e scaricato in pdf al mio dirigente alla fine dell'anno scolastico dove a partire dal questionario docenti e dal risultato del questionario ho un po inserito tutto quello che ho svolto con gli alunni all'interno della della scuola e anche quello che è stato fatto a livello di formazione con i colleghi canva può essere una linea del tempo questa è molto veloce l'ho inserita perché poi io non amo prepararli io ma amo farli fare dai ragazzi quindi è solo per mostrarvi che una linea del tempo poi si può ingrandire tutto quanto si vuole si può inserire foto video podcast cioè dei ragazzi anzi quelli che vi ho mostrato prima c'era addirittura una di quelle adesso mi fermo un attimo qui per dirvi questo addirittura ho preparato alla fine di un pon una cartolina digitale da dare e da inviare ai genitori per l'evento finale con un qr code nel quale poi dopo i genitori potevano anche vedere il lavoro finale fatto dai loro figli si può realizzare si possono realizzare anche strisce di fumetto questo preso da canva questo invece è un esperimento è un'attività anzi più che un esperimento molto semplice è fatto da bambini della scuola primaria sempre durante un corso pon proprio fatto in un bambini di terza quarta elementare che hanno scritto e questo lo dico e lo ripeto sempre di partire sempre dall'analogico quindi da carta penna pennarelli cartoncino e dopo creare quello che poi diciamo andrà come prodotto finale cioè con con il digitale io sono una giornalista quindi penso sempre poi al giornale e quindi quando qualcuno mi chiede ma come posso fare realizzare un giornale canva ci permette di fare anche una rivista e quindi la potete vedere in questo caso io adesso la sfoglio a pagina ad una singola pagina ma posso anche immaginate di sia un libro e sia una rivista si può anche scaricare il pdf e poi caricarlo in uno di quegli servizi online come può essere lì su sfogliani o altri per poi poterlo sfogliare online mi fermo su questo piano di lezione perché ce ne sono tanti ma è interessante poi con elena la quale tra breve darò la parola e si possono costruire delle bellissime schede di lavoro anche per la scuola primaria dove poi dopo una volta scaricato il pdf se avete la possibilità anche con acrobat di rendere il pdf editabile oppure di stamparle e far lavorare i bambini più piccoli questo è una diciamo molto carino quello che avevo detto prima faccio vedere solo questo come vedete sto facendo la presentazione posso anche decidere poi bene bene parlerà ecco vi volevo solo mostrare quella qui questa cartolina che avevo preparato per alla fine di un po quindi questo ed altro si può preparare con canva e possono essere tanti i prodotti le cose da fare ecco tolto il fatto un passaggio di tutto quello che si può fare con canva però tenendo conto che è solo e lo dico ed esclusivamente un uno strumento che possiamo utilizzare al meglio nella nostra attività didattiche ora sto zitta e do la parola ad elena e così e così ci riserviamo se avete qualche domanda anzi elena volevo anche dire che anche con anche nella classroom dove io elena gestiamo se avete voglia di creare anche con noi con elena più la parte tecnica con me volete creare un compito autentico volete creare un percorso siamo a disposizione interagiamo nella classe e così possiamo condividere anche qualcosa insieme zitta elena fortacate grazie prendo il testimone e cerco anch'io di andare con una certa velocità di modo che poi ci rimanga un po di tempo per le domande e che ripeto poi potremo proseguire sia l'una cosa sia una cosa che l'altra sia gli aspetti tecnici che le domande li potremo proseguire anche sulla classroom e io adesso entro in condivisione e mentre faccio questo ne approfitto anche per rispondere a una delle domande che ci sono arrivate quindi condivido e passo su canva ecco qua e in questo momento se vedete quello che compare collegandosi a canva punto com allora ho visto una domanda adesso purtroppo io non le vedo più perché in condivisione schermo entro in un altro universo spazio tempo chiedeva tutto quello che ha fatto una maria si che ci ha mostrato si può fare con la versione gratuita allora la risposta è sì in realtà canva offre tutti gli strumenti di cui voi avete bisogno nella sua versione gratuita arrivati a questa pagina basterà fare la registrazione quindi sign up e decidere il metodo una piccola nota come tutti questi strumenti online queste piattaforme gratuite nel momento in cui noi andiamo a registrarci stiamo sottoscrivendo un contratto in cui dichiariamo di avere più di 13 anni quindi per i docenti non c'è nessun problema le possibilità sono immense nella preparazione penso delle vostre dei vostri materiali da erogare ai ragazzi come ad esempio possono essere dei materiali per le modalità di flip ed classroom per i ragazzi più grandi anche qua nessun problema dopo vi farò vedere come si fa a condividere un elaborato su camba quindi a creare degli elaborati che seguano una logica partecipativa per invece gli studenti delle scuole primarie o i primi anni della secondaria di primo grado sarà necessario fare seguire l'iter che consente di registrarsi con un account scolastico io vi lascerò sempre sia qua che su classroom il link dove troverete tutta la spiegazione di come fare quello che noi vediamo oggi è l'account standard diciamo quello che un qualunque privato può sperimentare quindi io sono entrata con le mie credenziali ed eccomi in quella che è la mia dashboard di camba allora come vedete innanzitutto una delle due particolarità che rendono camba semplicissimo da utilizzare è quella di mettere a nostra disposizione una vastissima serie di template ce n'è davvero per ogni gusto e dai quali iniziare a lavorare dopo toccherà noi capire quanto vogliamo essere fedeli al template originale o quanto vogliamo stravolgerlo possiamo farlo anche in maniera diciamo così completa quindi ottenendo alla fine qualcosa che è veramente molto lontano dal dal progetto iniziale il template lì scorrete nella banda qua sotto dove vedete ad esempio agenda biglietto da visita calendario e davvero chi più ne ha più ne metta o ancor meglio andando in crea un progetto qui noi possiamo dare delle dimensioni personalizzate ad esempio il classico a4 e in quel caso sarà camba a suggerirci prendendoli un po' dai vari template dalle varie tipologie quello che meglio si adatta a quel formato oppure possiamo andare a digitare il tipo di layout che ci interessa quella che prima vi ha mostrato attraverso la quale ci ha parlato Anna Maria ad esempio era una presentazione animata noi adesso per vedere quelli che sono gli strumenti base mettiamo infografica qua che diciamo è uno strumento che ci dà modo di esplorare un po' quelle che sono tutti i tool principali dell'utilizzo di camba che sono veramente pochi e sono gli stessi per ogni tipologia di layout quindi le cose da imparare a livello tecnico sono veramente molto molto poche per l'utilizzo di questo strumento vedete che alla mia sinistra si sono aperti i modelli sono categorizzati in modo che si possano poi ampliare le singole categorie ecco qua io adesso vorrei tornare indietro l'altra particolarità oltre ad offrirci questi modelli l'altra particolarità di camba che lo rende molto adatto ad essere utilizzato anche con gli studenti più piccoli è il fatto che si basa su una logica a trascinamento quindi prendo quello che mi interessa e lo trascino all'interno del mio stage di lavoro una cosa che vi faccio notare subito qua sui modelli ma la ritroveremo a tutte le voci la ritroveremo foto sfondo video e così via è che quando noi scordiamo sui materiali che camba mette a nostra disposizione vedete che in alcuni di questi compare gratis ora c'è da stare attenti soprattutto lì dove facciamo lavorare i ragazzi in prima persona a sottolineare l'importanza di scegliere un un elemento gratuito camba non è che non ci permette di lavorare su quelli che comprendono degli elementi a pagamento che possono essere delle illustrazioni o delle fotografie noi ci possiamo lavorare il problema che nel momento in cui al termine di tutto il processo li andremo a scaricare e ci verrà chiesto di pagare per quel singolo elemento quindi io direi in ambito didattico questo evitiamolo assolutamente anche perché ci basteranno gli elementi gratuiti io quindi prendo il layout che ho scelto e me lo trascino nello stage ecco qua che posso iniziare a lavorare sul sul mio file ora si tratta per le infografiche di dimensioni diciamo abbastanza ingestibili quindi posso ricorrere allo zoom per avvicinarmi ecco qua e iniziare ad intervenire come vi dicevo sempre con questa logica a trascinamento di elementi gratuiti e in un modo che può rimanere fedele all'originale oppure no allora come prima cosa io in questo momento adesso chiudo la finestra dei modelli in questo momento vedete che ho già evidenziato quello che è lo sfondo che nel mio caso è uno sfondo nero per cambiarlo due possibilità tutti gli elementi grafici avranno nella barra in alto un quadratino colorato se ci clicco sopra posso andare a dare un altro un'altra tinta monocroma al mio sfondo vi faccio un esempio ovviamente posso anche andarlo a pescare direttamente con il gradiente per avere una maggiore possibilità di scelta andiamo uno un po più alle grotto ok altra possibilità di modifica dello sfondo è ricorrere allo strumento la nostra sinistra se clicchiamo su sfondo ecco che ci compaiono oltre alle tinte monocrome tutta una serie di immagini anche qua come vedete scorrendo le alcune di queste sono gratis molte per nostra fortuna qualcun'altra invece presenterà una coroncina quando ci scorriamo sopra che indica il fatto che si tratta di un elemento a pagamento quindi posso trascinarla nello stage ed ecco che ho un'immagine di sfondo ora in questo caso mi mi rende impossibile poi lavorare sugli altri elementi quindi ottono ecco qua a definire uno sfondo unitario perfetto questo per quello che riguarda lo sfondo iniziamo dal titolo quindi proviamo ad andare a lavorare sul testo lì dove c'è già un testo presente quindi a noi interessa andare a modificarlo non dovremo fare altro che cliccarci sopra e nella parte superiore troveremo tutti gli strumenti di modifica che sono tipici di un qualunque strumento di editing quindi possiamo andare a modificare il font ad esempio la il suo corpo quindi la grandezza più grande possiamo modificarne il colore ora in questo font che io ho scelto non ho la possibilità di dare il corsivo il grassetto ma in alcuni altri casi ce l'avrò l'allineamento e così via sono icone che avete già ampiamente visto anche banalmente su su word ovviamente poi io cliccandoci sopra posso modificare anche la scritta stessa quindi ecco qua un attimo questo e passiamo qua sotto allora vediamo un attimo io faccio un po di spazio per farvi vedere avrete notato che negli strumenti alla nostra sinistra che come dicevo sono tutti gli strumenti che ci servono per lavorare su canva abbiamo anche testo quindi qualora io voglio inserire un testo lì dove non c'è posso ricorrere a questo pulsante avrò qua sotto tutta una serie di template di abbinamento di due font possono essere di ispirazione perché no possono anche essere utili lì dove lavoriamo con degli studenti per ricordare loro di non esagerare con i tipi di font ma limitarsi giusto a un paio uno per i titoli e uno invece magari per i testi più lunghi oppure la cosa ancora più comoda è scorrere in alto questa finestra che ci si è aperta e trascinare nell'area aggiungi un corpo di testo qui potremmo scrivere tutto ciò che vogliamo e come prima andare a modificarlo Elena un momento qualcuno dice che non si sente più nulla avete problemi tutti con l'audio? ok ok allora soltanto va benissimo grazie continua continua Elena molto bene ottimo allora continuo e quindi possiamo inserire il nostro testo come vedete poi tutte le cose che vengono evidenziate riportano alcune icone abbiamo l'icona del taglia o quelle del ridimensionamento abbiamo il cursore per muoverci nello spazio e per cambiare diciamo l'inclinazione dell'elemento quando noi ci muoviamo nello spazio adesso io ho scelto un fondo che non evidenzia tanto bene quelle che sono le guide ma se ci fate caso vediamo comparire delle guide che ci indicano se stiamo seguendo degli allineamenti particolari quindi al centro del foglio o un allineamento rispetto ad altri elementi già presenti sul foglio sul nostro elaborato diciamo allora ovviamente nel caso di un'infografica io penso che l'output debba essere qualcosa di statico quindi non sto a mostrarvi video video ovviamente insomma è qualcosa di animato ma tale e quale ha come principio di funzionamento a ciò che vedremo per le foto che anzi andiamo a vedere immediatamente anche qua Canva ci propone una vasta serie di fotografie alcune gratis alcune no possiamo cercarle per tematica qua sopra quindi serve ad esempio un fiore ecco vedete che queste prime indicano la coroncina quindi vuol dire che per utilizzare queste bisognerebbe avere un account pro che è un account a pagamento noi le evitiamo in realtà molto più comodo quando si va a lavorare con delle fotografie è fare ricorso ai propri caricamenti dal computer quindi a fotografie che abbiamo scattato noi o che abbiamo scaricato dal web adesso io mi sono preparata anche aperta eccolo qua un paio di link ai quali si può fare ricorso per andare a prendere delle fotografie questo che probabilmente molti di voi già conoscono scusate se in questo momento vedrete mille finestre aperte ma lo faccio solo per il tempo di condividervi questi link Pixabay che sicuramente molti di voi conoscono io quello che preferisco in assoluto è Unsplash possono essere utili per la ricerca torniamo ecco qua al nostro file quindi io in questo caso posso oltre che scegliere tra le foto messe a mia disposizione andare su caricamenti chiedere carica contenuti multimediali dal dispositivo ed ecco che mi si aprirà la finestra nella quale andare a richiamare la foto che ho precedentemente salvato sul mio computer adesso non me ne ero preparata una per l'occorrenza comunque faccio ricorso a quelle già presenti vediamo andiamo a sceglierne una che non sia a pagamento l'ho vista l'ho vista ecco anche in questo caso tutto quello che dovrò fare è trascinarla nell'area adesso cancello l'elemento che sta sotto di lei così ci vediamo meglio e adattarla quindi posso scalarla utilizzando le maniglie agli angoli posso anche andare a tagliarla invece trascinando sulle maniglie che si trovano a metà dei lati del rettangolo di evidenziazione poi anche qua ogni volta che noi andiamo a prendere un elemento in alto compariranno tutte quelle che sono le voci di modifica di quel singolo elemento quindi nel caso di foto ecco che possiamo usare degli effetti dei filtri andarne a regolare un po' le caratteristiche quindi ad esempio togliendo il contrasto e più che altro togliendo la saturazione avremo un'immagine in bianco e nero e così via io sconsiglio l'utilizzo di filtri anche se capisco che sono divertenti per i ragazzi ma vanno molto a incidere su quella che è la qualità dell'immagine ok procedendo ci è rimasto un ultimo elemento da andare a vedere che è proprio la voce elementi allora qui abbiamo una vasta serie possiamo chiamarli elementi decorativi alcuni di questi sono degli adesivi animati che possono comparire lì dove noi abbiamo scelto un template di presentazione se invece quello che otteniamo è una pagina statica ecco che anche qua abbiamo una vasta serie di forme base ma anche sempre suddivisi adesso ultimamente Canva ha messo a disposizione una vasta serie di elementi sulla tematica coronavirus ma andiamo a prenderne uno un po' più allegro e torniamo di nuovo ai fiori ad esempio ecco questi sono elementi grafici vettoriali anche qua ormai non ve lo ripeto nemmeno più alcuni gratis e alcuni no ma tra gli elementi soprattutto lì dove noi parliamo di infografiche ci interesserà particolarmente fare ricorso andiamo a prendere subito ai grafici quindi posso aprire la sottocategoria dei grafici e andare a scegliere quello che fa più al caso mio mi trascino nell'area un grafico a torta eccolo qua vedete che è molto grande rispetto a quelle che sono le mie esigenze quindi come qualunque altro elemento posso andare a scalarlo e portarmelo nell'area qui la cosa più importante togliamo via questa barra che ci disturba la cosa più importante è che quando noi clicchiamo sul grafico a sinistra ci comparirà lo strumento che ci consente di strutturarlo secondo le nostre esigenze quindi decidere quanti sono gli elementi che compaiono all'interno in questo caso il grafico a torta potrebbero essere grafici anche di diversa natura quindi se quello che noi chiamiamo elemento 1 lo mettiamo al 50 osserviamo che gli spazi si sono ridistribuiti in maniera proporzionale perché in questo momento avevamo dato altri valori anche agli altri elementi se vogliamo ragionare in termini di percentuale mi basterà azzerare gli elementi che non mi servono oppure andare al contrario ad aggiungerne altri successivamente ok allora no chiedo scusa ho sbagliato la finestra siamo di nuovo qua ecco così facendo noi abbiamo visto come vi dicevo tutti quelli che sono gli strumenti di modifica di un elaborato che sia questo un'infografica, un curriculum una cartolina dopo vi lascerò qualche link anche di come io e Anna Maria abbiamo usato questo strumento per somministrare diciamo in fase di didattica a distanza qualche percorso in cui si chiedeva di l'elaborazione di un compito autentico vi lascerò tutti i link tra un po' ora la cosa importante ovviamente qui la modifica dell'elaborato di base dipenderà tutta dalla vostra creatività e da quelli che sono i vostri scopi mi preme però al di là di questo che avrete capito è molto semplice da fare mi preme a farvi vedere come si condividono scaricano i file e anche alcune delle ultime novità che Canva ha introdotto per la loro condivisione allora come prima cosa vediamo come si scaricano mettiamo il caso che io abbia ultimato la mia infografica e la voglia scaricare sul mio computer per inserirla all'interno di qualche altro elaborato che sia cartaceo oppure online o per inviarla ad esempio come allegato allora mi basterà andare sul pulsante scarica che è quello con la freccia che punta in basso Canva ci consiglia sempre quello che è il formato di esportazione a qualità più alta quindi in questo caso un pdf da stampa andrebbe benissimo soprattutto là dove io volessi appunto inviarlo come allegato in alcuni casi può farmi comodo avere un'immagine raster quindi il pdf da stampa è un'immagine vettoriale non anche se non modificabile invece il png vedete abbiamo due possibilità per le immagini raster in questo caso poi dipende un po' dal template che noi abbiamo utilizzato ovviamente se avessimo utilizzato una presentazione le voci che comparirebbero qui sarebbero diverse qui possiamo scegliere jpeg che però ci dice è un'immagine di piccole dimensioni oppure png e scaricando un png io dopo lo posso mettere questa immagine questa diventa a tutti gli effetti un'immagine digitale e può essere inserita all'interno di altri elaborati quindi noi restiamo però su ciò che ci ha consigliato Campa in questo caso se io premo il pulsante scarica mi basteranno pochissimi minuti perché questo finisca nella mia cartella dei download e ecco fatto e tutto quello che io creo con Campa è di mia proprietà diciamo quindi posso sentirmi libero di condividerlo assolutamente come preferisco questo appunto nel caso in cui voi lo utilizzate per la preparazione delle vostre lezioni ma come diceva prima Anna Maria in realtà forse la parte più interessante è utilizzarlo per progetti collaborativi quindi dare accesso ai ragazzi a dei template e dei template che magari noi abbiamo un po' predisposto al nostro scopo allora per fare questo dovremmo fare un passo indietro considerate che intanto il file oltre ad essere scaricato sul mio computer è anche sempre salvato lo vedete qua sopra tutte le modifiche sono state salvate quindi in questo momento è comunque nel repository di Canva alla voce dei miei modelli quindi io posso tranquillamente chiuderlo tornare nella così nella mia home page alla voce tutti i miei progetti probabilmente lo starà caricando quindi non vediamo l'anteprima in questo momento ma sarà in arrivo alla voce di tutti i miei progetti ritroverò il file che ho appena chiuso se voglio invitare i miei studenti a lavorare su questo file posso andare qua sotto dove c'è il mio team una volta cliccato sul mio team vedete questi sono elaborati che avevano fatto i ragazzi durante il centro estivo di FEM una volta cliccato sul mio team posso andare su persone e iniziare ad invitare le persone quindi scriverò qua il loro indirizzo mail lascerò la spunta su membro così da esserne io l'unico amministratore e una volta aggiunti gli indirizzi mail potrò mi risulterà cliccabile manda invito adesso faccio una prova giusto per evidenziarvelo ecco qua Elena ricorda pure che poi si può sia creare il team che condividere il singolo progetto cioè nel senso che per condividere il singolo progetto bisogna prima avere invitato le persone quindi noi come primo passaggio le invitiamo in questo modo le persone riceveranno una mail con il nostro invito e solo nel momento in cui l'avranno accettato e avranno a loro volta creato se già non ce l'avevano un account su Canva allora potremo procedere alla condivisione io sto parlando di condivisione nel senso di una condivisione operativa cioè le persone invitate possono metter mano al file diverso a se noi glielo vogliamo esclusivamente mostrare quindi il primo passaggio è andare ad aggiungere le persone al mio team fatto questo mi può anche essere d'aiuto se ho bisogno di far lavorare le persone non singolarmente ma all'interno di gruppi andare sotto gruppi e iniziare a inserire le singole persone le stesse che ho precedentemente invitato a collaborare quindi potrò dare un nome al gruppo e andare a richiamare le persone una volta fatto questo ecco che si potrò tornare sul progetto che mi interessa condividere e andare alla voce condividi ora cliccando qua io posso richiamare la singola persona ecco ho inserito gli studenti delle ricette che avete visto composte prima e quindi possono essere richiamati singolarmente oppure posso richiamare direttamente un intero gruppo se l'ho precedentemente creato ed ecco che l'invito arriverà a tutti i suoi membri sulla destra possiamo decidere se la persona che riceverà l'invito può soltanto visualizzare il file quindi gli sarà gli verrà caricata l'anteprima all'interno della mail oppure se lo può modificare che è ciò che a noi più interessa a questo punto basterà fare in bio e tutte le persone di quel gruppo potranno simultaneamente accedere al file e metterci mano ora quando questo avviene c'è un altro strumento che viene in nostro aiuto per gestire questo genere di partecipazione anzi riduco un pochino così lo vedete meglio ed è che quando io vado a prendere un elemento qualunque che sia testo che sia grafico qualunque cosa vedete che alla sua destra mi compare la possibilità di aggiungere un commento qui io posso lasciare commenti dare una menzione quindi assegnare un compito a ciascuno lasciare i commenti da parte dell'insegnante o domande da parte dei ragazzi vedo che fioccano le domande lascio ancora un attimo il compito ad Anna Maria di rispondere per mostrarvi un'ultima novità di Canva è proprio una cosa che è stata introdotta negli ultimi giorni quindi ancora anche sul sito ufficiale di Canva non compaiono i tutorial per il suo utilizzo io e Anna Maria ci siamo divertiti a provarla se noi andiamo nell'ultima icona che abbiamo in alto a destra quella con i tre pallini ecco che oltre allo scarica abbiamo delle altre voci presenta è quella che ha utilizzato prima Anna Maria per mostrarvi la sua presentazione quindi si entra in una modalità diciamo a schermo a schermo intero questo ha la possibilità cliccando sull'icona live qua sotto vedete di iniziare una sessione di discussione durante la presentazione quindi copiando l'invito adesso possiamo fare una prova però dobbiamo dire che devono andare su Canva live devono andare su devono prendere l'indirizzo Canva live stavo venendo a copiarvi il tutto in chat allora se voi andate su Canva live e inserite eccolo qui il codice che io ho appena copiato utilizzando lo strumento live dovreste entrare in un'area di chat di Q&A qui allora scusate vado velocemente io chiedo scusa ho probabilmente interrotto la sessione quindi vi lascio qualche punto più per per impiegarla vi torno a dare il link così facciamo le prove in diretta di questo nuovo strumento e vi dicevo io in realtà allora questo strumento lo trovo utile per quella che è la presentazione il fatto che si apra una finestra a parte per il Q&A personalmente non lo trovo così comodo non credo che risolva problemi che già non risolvono in maniera più facile magari altri strumenti di condivisione quello che invece a me ha divertito tantissimo è questo presenta e registra ora se mi permettete di chiudere un attimo la sessione live facciamo una prova in diretta anche di di questo sì infatti vedo io che sono nella modalità vedete che voi adesso vedete condivisa di relatore vedo qua i vostri commenti che mi avete inviato tramite la finestra di Q&A ora interrompo questo per farvi vedere l'altro strumento di cui vi stavo parlando che è quello presenta e registra ecco io questo l'ho trovato molto utile vai allo studio di registrazione in questo caso io ho un'infografica quindi pensatelo applicato ad una presentazione per i vostri contenuti didattici se io do avvia registrazione inizia il countdown diciamo che questo può sostituire screencast che tutti quanti utilizziamo per preparare le nostre lezioni per la didattica digitale a distanza da ormai in questo ultimo tempo esattamente esattamente qui noi avremo modo ripeto io ho un'unica pagina quindi la vedete fissa ma potrei sfogliare il mio elaborato se si trattasse di una presentazione o anche di un pdf su più pagine ad esempio e intanto essere presente anch'io diciamo in questa presentazione quindi poterci parlare sopra è una modalità asincrona quindi io registro e poi invio il link lo facciamo subito anche la resa grafica io trovo sia molto piacevole a seconda che voi mi state seguendo da computer o da smartphone sarà un po' diversa con dei pesi diversi soprattutto tra l'elaborato e la registrazione live ci mette un po' a caricare nel frattempo che tu fai vedere questo se c'è qualcun altro che ha qualche domanda perché stiamo ormai quasi in chiusura possiamo tenere giusto qualche altro minuto dopo se avete qualche domanda qualche curiosità scrivetela pure allora io intanto vi invio il codice che mi è stato generato esco un attimo ecco qua torno a guardarvi in faccia e da quel codice avete una dimostrazione di quello che succede utilizzando questo strumento piccolissima nota che faccio almeno per quelle che io ho potuto studiare adesso appunto di questo strumento che è nuovissimo ancora non ha dei tutorial di riferimento il video che noi andiamo a creare rimane in un luogo di repository al quale noi non abbiamo accesso quindi io non posso più andarlo a modificare o a cancellare non è nella mia bacheca ecco però insomma credo che questo non turberà nessuno anche perché come vedete è un link univoco a cui difficilmente altri si potrebbero collegare se non siete voi a fornirglielo allora scusate mi sto riprendendo un attimo anche io la se ci siamo un po' domande sì stavo infatti allora Elisa ci dice chiedevo se fosse possibile avere qualche riferimento bibliografico sul tema del web design per accompagnare i bambini alla conoscenza del lessico specifico di questi strumenti di editing digitale possiamo creare un glossario qualcosa di semplice che dici assolutamente sì anzi il glossario in realtà vi dico che era già stato creato almeno un primo glossario ne approfitto per lasciarvi qualche link in più quando io e Anna Maria abbiamo studiato le sfide per il periodo del lockdown della scorsa primavera quindi ad esempio questa è una che richiedeva la creazione di uno storyboard da parte degli studenti su un avvenimento storico tra i materiali dovreste trovare ancora il pdf che avevo creato con Canva con un piccolo glossario grafico in ogni caso ve lo ricarico sicuramente anche sulla classica siamo anche in classroom esatto sì sì infatti troverete tutto quello che diciamo di cui abbiamo parlato oggi che avete visto oggi lo troverete in classroom e poi come ho detto prima se avete bisogno di un feedback un consiglio volete creare qualcosa con noi anzi ci fa piacere perché questo è soltanto un input che noi abbiamo dato e speriamo di essere state abbastanza chiare esaurienti per voi per le vostre attività Laura Cassone ho bisogno dell'invito intendi l'invito per classroom lo rimettiamo di nuovo adesso lo rimettiamo di nuovo abbiamo visto che ci sono diverse persone che hanno avuto qualche difficoltà con la classroom vi manderò comunque ce lo avrete nella mail nella mail che è al più tardi domani perché al più tardi lo mandiamo a tutti i partecipanti avrete l'e-mail con tutte le indicazioni ok perché alcuni dicono che non riescono ad entrare in classroom è proprio un problema di copy-in-colla di spazi grazie a voi per la partecipazione siete stati veramente in tanti siamo veramente contente che questo vi sia piaciuto così vi aspettiamo anche la prossima settimana perché abbiamo un'altra applicazione da farvi vedere con tutte le novità di questa applicazione poi sempre da parte mia come utilizzarla nella didattica e da parte di Elena tutto ciò che riguarda la parte tecnica grafica e vendere più belli possibili i nostri lavori grazie a voi per la partecipazione grazie Elena a te per l'invito e di essere state insieme in questo bel percorso oggi ci ritroveremo insieme anche la prossima settimana e vi rispondo a qualcuna delle ultime domande che vedo qua la prossima settimana l'applicazione di cui parlava Anna Maria è ThingLink davvero estremamente non solo divertente ma ricca di potenziali riceverete un attestato sì vi sarà inviato e vi riceverete l'attestato e contestualmente la mail con il link alla registrazione di questo incontro e ci sono i materiali benissimo sicuramente un tutorial di utilizzo di Canva tutti i link che sono stati condivisi a strumenti che possono essere d'aiuto nel suo impiego Elena possiamo inviti a mandare anche visto che sono tutti attenti a voler venire anche la settimana prossima possiamo anche mandare già pure il link del prossimo a tutti quanti nella mail che dici? assolutamente ci confrontiamo ci confrontiamo un attimo con la ITT che veglia su di noi insomma per capire dove indirizzarvi correttamente affinché voi appunto restiate in nostra memoria così che possiamo farvi avere l'attestato di partecipazione io ho scoperto solo oggi Anna grazie speriamo di non perderti allora seguici ancora ai prossimi webinar si hanno dato benissimo la pagina FEM dove ci sono tutti i webinar grazie a voi Anna sì lo so che ci conosciamo vero io conosco tanti di voi di persona alcuni per quando ho girato un pochino l'Italia e altri invece siamo amici di social però condividiamo tantissimo è vero grazie grazie per la fiducia grazie speriamo di vedervi presto grazie Anna Maria grazie a te Elena buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti arrivederci ciao grazie a tutti grazie a tutti